pesaro senza parlamentari la provincia elegge solo carloni e valdelli pd c'è anche matteo ricci fra i candidati al dopo letta da sabato via i vaccini nell'auditorium a marche multiservizi tanti servizi sociali ma servono volontari l'appello di onlus guliver la festa dei fiori trasloca il viale della repubblica ben ritrovati buona serata e ben ritrovati soprattutto su rossini tv questo è il nostro telegiornale oggi è martedì 27 settembre apriamo questa edizione parlando di politica si è infatti completata la squadra dei dieci deputati e cinque senatori marchigiani eletti in parlamento una squadra netta maggioranza di centrodestra in cui spicca l'assenza di parlamentari della città di pesaro la regione marche invece deve ricostruire metà della sua giunta dopo l'elezione di tre assessori allora esaminiamo in questo primo servizio questi argomenti per capire meglio che cosa sta accadendo dieci parlamentari di centrodestra tre del partito democratico due del movimento cinque stelle ecco il quadro definitivo di come sarà rappresentata la regione marche nelle nascenti camere dei deputati e del senato che hanno portato all'elezione di dieci deputati e cinque senatori della regione numeri che dipingono la vittoria del partito di giorgia meloni numeri che ricordano come sarà scarsamente rappresentata la provincia di pesaro urbino pesaro seconda città delle marche rimane infatti senza onorevoli la provincia sarà rappresentata solo dal fanese mirco carloni eletto al collegio uninominale alla camera dove avrà la compagnia del pergolese antonio baldelli eletto al proporzionale l'ampio consenso di carloni rappresenta una delle note più sorridenti di una lega che a livello nazionale si interroga su un'elezione non andata per il verso sperato gli altri due deputati della lega saranno l'assessore regionale alla cultura giorgia latini e il coordinatore regionale della lega riccardo marchetti eletto al proporzionale coi suoi 35 anni marchetti sarà il parlamentare marchigiano più giovane il pergolese baldelli sarà invece in compagnia di altri quattro eletti di fratelli d'italia alla camera lucia albano e stefano benvenuti costoli al senato l'assessore regionale guido castelli ed elena leonardi coordinatrice regionale del partito di giorgia meloni parlamentari marchigiani di centrodestra completati da antonio de poli per udc e lista non moderati confermato al senato e da francesco battistoni di forza italia che approda alla camera l'opposizione irene manzi augusto kurti alla camera e alberto lo sacco al senato compongono il tris del partito democratico roberto cataglia al senato e giorgio fede alla camera rappresenteranno invece i marchigiani del movimento 5 stelle è un'elezione che cambia giocoforza anche l'assetto della giunta acquaroglia alle regione marche non è stato eletto a guzzi ma saluto nancona comunque metà degli assessori a prendere le deleghe di mirco carloni e giorgia latini dovrebbero essere altri due esponenti della lega come andrea antonini e daniela tisi le deleghe di castelli rimarranno a fratelli d'italia con l'assessorato concesso a carlo ciccioli senza carloni il vice presidente della regione dovrebbe diventare l'assessore alla sanità filippo saltamartini continuiamo a parlare di politica perché il partito democratico si lecca le ferite della sconfitta elettorale comincia a ragionare quindi sul successore di enrico letta fra la lista dei nomi candidabili alla segreteria del pd potrebbe esserci anche il sindaco di pesaro matteo ricci vediamo un mese e mezzo fa declinò la possibilità di candidarsi alla corsa al parlamento anche a causa di una legge che avrebbe portato al commissariamento delle comune di pesaro un mese e mezzo dopo il partito democratico sembra di nuovo bussare alla porta di matteo ricci questa volta non per ricorrere uno scranno a camero senato dove idem hanno incassato una sconfitta cocente ma proprio per raccogliere i cocci di questa sconfitta ci sarebbe infatti il nome del sindaco di pesaro fra la rosa dei candidati al dopo letta alla segreteria nazionale del pd un ruolo per il quale ricci in queste ore è fra i nomi papabili sbandierati a livello mediatico nazionale assieme al governatore dell'emilia romagna bonacini alla sua vicepresidente ellis line al vice segretario del partito giuseppe provenzano e al sindaco di bari antonio de caro un totonomi forse prematuro ma che già presagisce l'area di un partito in cui corre il sentore della ripartenza dai sindaci e dall'anima delle amministrazioni locali ovvero quegli stessi punti fermi cavalcati da ricci che anche il coordinatore nazionale dei sindaci pd rifondare il pd dargli un'anima o forse andare oltre il pd frasi apparse anche oggi in un nuovo post di matteo ricci che scrive come non è il momento di fare nomi e cognomi nessuno oggi si può sottrarre capiamo perché non siamo stati percepiti come la forza del riscatto sociale e ridiamo velocemente speranza a un popolo deluso arrabbiato in quell'andare oltre al pd si vede anche la capacità di creare laboratori politici precursore a livello nazionale come l'intesa col movimento 5 stelle tradotta a pesaro nella partnership consolidata con l'assessore francesca franquellucci dunque partita aperta per un congresso pd atteso per inizio 2023 che partorrerà una nuova segreteria dalla politica all'economia parte giovedì un ciclo di incontri che porterà a pesaro e gradara importanti economisti imprenditori e giornalisti incontri realizzati grazie ad un'ampia unione di intenti fra confindustria bs gruppo università di urbino arcidiocesi di pesaro riviera banca ordine degli avvocati e ordine dei giornalisti arcidiocesi di pesaro confindustria gruppo bs riviera banca università di urbino ordine degli avvocati e ordine dei commercialisti tante realtà del territorio pesarese diversificate in un'unica missione analizzare le sfide dell'oggi e il futuro dell'economia e questo il ciclo dei tre incontri che convoglierà a pesaro e a gradara grandi personalità dell'economia della finanza e del giornalismo il primo appuntamento il 30 settembre alle ore 18 al business center di bs group alla presenza dell'economista stefano zamagni e dell'avvocato andrea moschetti partendo dal tema quando l'industria incontra l'uomo ciclo di incontri che proseguirà il 17 ottobre con ferruccio de bortoli e katia de ros e il 25 novembre con leonardo becchetti e sergio gatti presentiamo un importante programma ma che ha lo scopo di mettere al centro l'uomo come protagonista del futuro ci interroghiamo su quale futuro si possa avere e in questo sforzo corale che cerchiamo di fare tra più soggetti e confindustria come soggetto collettivo anche pensato di fare un apposito manifesto per indicare i punti strategici sui quali concentrare la nostra attenzione in termini di ecosistibilità di economia circolare e di responsabilità sociale noi abbiamo sostenuto questa iniziativa perché la chiesa attraverso il suo magistero sociale ha sempre posta al centro la figura dell'uomo la sua umanità ma anche la centralità del lavoro anzi attraverso il lavoro l'uomo porta a compimento l'opera della creazione la migliora per lo meno la dovrebbe migliorare ecco poi noi siamo oggi in un contesto in cui il lavoro manifesta tutta la sua debolezza oggi il lavoro è precario disperso e anche spesso pericoloso quindi c'è un problema di risoggettivare il lavoro fare del lavoro il momento in cui la società ritrova la sua unità il nel dna del dell'imprenditoria italiana vi è una naturale tendenza a trarre i saperi le tradizioni e le motivazioni dal territorio in cui si trovano ad operare ed è quello che il gruppo vs ha potuto verificare quando nel 2018 ha cominciato a redare il primo bilancio di sostenibilità erano già presenti nel gruppo infatti dei germi di sostenibilità che poi sono stati ulteriormente approfonditi e integrati nei piani industriali prioriennali siamo qui oggi con questo con questa serie di incontri proprio per proporre al territorio un profilo culturale ulteriormente ulteriormente approfondito sui temi della sostenibilità per consentire agli imprenditori di affrontare le sfide dell'oggi il futuro dell'economia con maggiori competenze c'è bisogno di di novità c'è bisogno di innovazione c'è bisogno di nuove soluzioni e questo soltanto la ricerca credo possa garantirlo stiamo pensando insieme anche alle associazioni di categoria a chi opera alle imprese delle modalità per sostenere l'impatto di questa evidente crisi inflattiva e crisi energetica siamo siamo una comunità e in questo senso le comunità si devono attrezzare si devono confrontare devono dialogare devono relazionarsi per trovare le soluzioni migliori è il compito del credito cooperativo è il compito di riviera banca ed è quello che faremo anche il ciclo di incontri che abbiamo promosso di cui siamo partecipi va in questa direzione ed ora cambiamo argomento perché proseguono per il dodicesimo giorno le ricerche per brunella chiù ultimo disperso dell'alluvione che ha colpito l'entroterra anconetano ricerche che vi mostriamo in queste immagini che documentano anche il lavoro dei sommozzatori a senigallia per verificare la riapertura di alcuni ponti intanto questo pomeriggio nella chiesa di santa maria assunta del comune di barbara si è tenuto il funerale di mattia luconi di otto anni il cui corpo è stato ritrovato lo scorso venerdì le immagini che vi mostriamo ora si riferiscono invece alla firma di questa mattina dell'accordo tra asure marche multiservizi che ufficializza la concessione ad area vasta 1 dell'auditorium di marche multiservizi di via toscana come nuovo hub vaccinale anti covid della città di pesaro le vaccinazioni partiranno sabato primo ottobre pesaro ritrova dunque un punto vaccinale anti covid aperto a tutta la cittadinanza a quattro mesi dalla chiusura dell'ex ristò al rossini center sabato primo ottobre la fondazione cassa di risparmio compirà 30 anni un appuntamento in cui a partire dalle 10 la fondazione incontrerà presso la sua sede di via passeri tutti i protagonisti della crescita di questi tre decenni nell'occasione sarà visitabile anche l'esposizione 30 anni insieme per lo sviluppo del territorio e sarà inaugurata anche la biblioteca gianfranco sabattini in omaggio al compianto presidente rimasto alla guida della fondazione per 15 anni dopo i recenti ritrovamenti a pesaro di scheletri umani di epoca medievale rinvenuti durante i lavori di rifacimento della pavimentazione di piazza del popolo domani 28 settembre alle ore 13 il comune di pesaro organizza un incontro divulgativo con gli archeologi che si stanno occupando degli scavi un appuntamento di 30 minuti con erica valli dello studio archeologico tecnè nel quale verranno spiegate curiosità e tecniche dei reperti emersi in questi giorni a pesaro ci sono servizi sociali che si stanno positivamente ampliando con la raccolta di eccedenze alimentari servizi che crescono ma per i quali cresce anche l'esigenza di volontari come ci spiega in questa prossima intervista il presidente della onlus gulliver andrea boccanera festeggiamo a novembre i 10 anni della gulliver purtroppo a pesaro in questi cenni ha visto sempre un lento il continuo aumento dei bisogni attualmente gulliver segue 430 famiglie 900 persone per quanto riguarda il pacco alimentare settimanale e abbiamo attivato una raccolta quotidiana nei supermercati cittadini questa raccolta è fatta in tre giorni noi vorremmo aumentarla a sei giorni su sette e distribuire in più ore siamo tanti le attività sono tantissime il nostro invito è alla cittadinanza di peso di provare a fare volontariato il volontariato può essere fatto due ore tre ore a settimana cinque ore al mese il tempo che uno ha da dedicare però è importante che le persone escono di casa e iniziano a impegnarsi quanti sono attualmente ai volontari coinvolti parliamo di 250 volontari nelle diverse attività e 50 collaboratori quindi una realtà diciamo di essere molto importante ma sono tante le cose da fare e l'invito è quello di uscire ovviamente di casa venire con noi e provare questa esperienza perché da una parte aiuta le persone dall'altra parte a cresce anche la persona stessa che lo fa e poi oggi serve da sabato primo ottobre saranno in vendita gli abbonamenti per la stagione di prosa 2022 2023 promossa a pesaro da amat vendita che si svolgerà la biglietteria del teatro sperimentale fino al 4 ottobre mentre dalle 13 del primo ottobre sarà possibile effettuare l'acquisto anche online sul sito viva ticket il costo degli abbonamenti uscilla tra gli 80 e 200 euro per una stagione di prosa che si articolerà in 32 appuntamenti l'inaugurazione sarà dal 13 al 16 ottobre tra teatro sperimentale e teatro rossini con lo spettacolo storia di un intento assurdo del piccolo teatro di milano a seguire vanessa incontrada sarà in scena dal 19 al 22 gennaio con scusa sono in riunione ti posso richiamare mentre stefano accorsi giungerà pesaro dal 9 al 12 febbraio con lo spettacolo azul la stagione di prosa si concluderà ad aprile con le ferite del vento di juan carlos rubio venerdì 30 settembre alla rocca di gradara si terrà il premio gradara ludens il riconoscimento più importante assegnato in italia a chi ha fatto del gioco la propria professione o parte importante della propria arte i premiati di quest'anno saranno il giocoliere di parole bruno tognolini l'autore di giochi andrea angiolino e il presidente della sua associazione culturale ivi pro andrea dresseno alle 12 si terrà l'assemblea a porte aperte di giona l'associazione nazionale della delle città in gioco seguita dalla tavola rotonda su gioco e memoria alle 20 la cerimonia di premiazioni a cui seguirà alle 21 e 30 nel teatro comunale lo spettacolo il filo dei ricordi si tratta di un evento a ingresso libero che sarà seguito da rossini tv che vi mostreremo in uno speciale d'approfondimento che andrà in scena la prossima settimana con la novità di viale della repubblica come nuova location torna sabato primo ottobre la 68esima edizione della mostra mercato dei fiori a pesaro una festa arrivata a 68 anni di età entrate di diritto già da tempo nella tradizione pesarese la mostra mercato dei fiori delle piante ornamentali si conferma anche per quest'autunno coinvolgendo circa 20 espositori e presentando una grossa novità rispetto alle sue 67 edizioni precedenti visti i lavori di rifacimento della pavimentazione di piazza del popolo location che da sempre ha ospitato la fiera per quest'anno la mostra si trasferirà in viale della repubblica per quattro giorni da sabato 1 a martedì 4 ottobre grande fiducia sulla partecipazione di pesarese non solo da parte della rappresentante degli espositori florovivaistici franco florio nonché titolare del garden center florio penso che la città ci possa sicuramente seguire verranno a visitarci di sicuro via della repubblica è una tradizione che pesaro ormai sono sessantottesimo se non sbaglio edizione è una c'è la festa della mostra dei fiori a pesaro non c'è un pesarese che non viene quindi diciamo c'è stato sempre tantissimo flusso pensiamo che quest'anno sia uguale il nostro settore diciamo sta cambiando molto ci stiamo rinnovando tantissimo abbiamo tantissime proposte per l'autunno anche diciamo la le nuove coltivazioni di piante stanno cambiando sempre più piante autunnali resistente al freddo meno acqua alla siccità quindi non solo il classico ciclamino che ce n'è tantissimi non ne produciamo tanti ma anche tanti altri miei colleghi che ne hanno abbiamo diciamo modo di trovare tantissime piante e quindi diciamo le novità ci saranno anche a livello di piante tantissime piante esterne anche nuove c'è un buon rinnovamento anche nel nostro settore noi per sempre come azienda adesso abbiamo presenteremo nuovi terrarie sono nuove composizioni di piante ci sarà un tantissimo assortimento di piante grasse esemplari quindi diciamo c'è tanto da vedere e troverete molto ci sarà presenza anche della scuola agraria che dicevo prima che per noi è molto importante sul nostro settore dove nascono i nuovi flori vivaisti e saranno anche loro presenti con un bello stand quindi diciamo c'è molto si deve fare una scommessa quale sarà il fiore che proprio andrà di più il fiore che va di più è il classico uno a comprare ciclamino alla festa di fiori quello è però sta cambiando molte gallune tanti se sta cambiando anche il modo di acquisto quindi si compreranno tanti ciclamini ma tanto di altro insieme ai flori vivaisti abbiamo fatto degli incontri nelle durante il periodo estivo dove appunto abbiamo cercato la location migliore più vicina al centro storico per appunto ricordare anche in modo che i cittadini con facilità riescano da a raggiungere la fiera è una fiera comunque come detto giustamente sessantottesima fiera del dei fiori è un evento risentito dalla città di pesaro e anche per questo abbiamo voluto allungare le giornate farla in quattro giorni perché era fondamentale che ricadesse nella giornata di san francesco e allora l'invito è anche da parte nostra di partecipare alla festa dei fiori a pesaro che si articolerà insomma per diversi giorni a partire da sabato intanto alcuni appuntamenti su rossini tv per questa sera e anche per i prossimi giorni questa sera una nuova nuovissima puntata inedita di green tour che parlerà e racconterà di borgo massano e montecalvo in foglia vi aspettiamo quindi questa sera le 21 e 20 queste sono le repliche in cui potrete rivedere questa stessa puntata e poi venerdì 30 settembre per chi non ha potuto partecipare allo spettacolo che si è tenuto al teatro sperimentale con il nostro amico carlo pagnini e fabio masini del conservatorio sound field de luce l'abbiamo ripreso integralmente lo potete rivedere comodamente dal vostro divano venerdì sera alle 21 e 20 domenica 2 ottobre invece saremo in diretta alle ore 16 dal duomo quindi potrete seguire la celebrazione della santa messa d'imposizione del pallio dell'arcivescovo presiede il nunzio apostolico in italia il monsignor emil sharing e poi vi ricordiamo come sempre di scaricare gratuitamente la nostra applicazione trovabile su google play e app store la potete scaricare gratuitamente perché è uno strumento utile non solo per vedere la programmazione i programmi di rossini tv ma anche per mandarci le vostre segnalazioni foto video messaggi attraverso la nostra applicazione oppure attraverso il consueto numero di whatsapp 370 366 72 10 ho detto davvero tutto adesso vi lascio con il meteo per vedere come sarà il tempo i prossimi giorni e vi auguro una buona serata